e rieccoci nuovamente insieme un bel ritrovato va fabio carnino se c'è lui al mio fianco sono ospite di vr camper e mi trovo a druento in via volta 29 dove c'è tantissimo prodotto anche perché voi siete appena ritornati da una fiera nazionale molto importante che quella di parma dedicata proprio ai veicoli ricreazionali è proprio vero è proprio vero buongiorno a tutti ciao sonia siamo di ritorno dalla fiera di parma dove sicuramente i risultati sono stati in maniera anche piuttosto grandiosa portati a casa tanti sono i veicoli in pronta consegna come appunto accennavo poco fa a sonia parliamo di prodotti di casa busner prodotti di casa immer e di casa laica quindi venite a trovarci a toccarli con mano perché ne abbiamo veramente per tutti i gusti per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche ma non dimentichiamo il noleggio che continua sempre a funzionare molto ampia è la nostra flotta del noleggio parliamo di motorhome di semi integrali di furgonati quindi veramente veicoli da provare da toccarli con mano e da capire effettivamente qual è il nostro compagno di viaggio perfetto tante belle opportunità allora non ci resta altro che seguirti in questo viaggio alla scoperta dei veicoli ricreazionali state con noi e cominciamo da un cross camp una tipologia di prodotto peraltro molto apprezzata perché versatile destinato un po all'avventura ecco parliamo di un veicolo di 5 metri di lunghezza totale che può offrire 5 posti omologati a viaggiare e 4 posti a dormire al suo interno grazie al soffietto che lo sovrasta e la trasformazione del gruppo sedute all'interno del veicolo il tutto senza abbandonare senza dimenticare il nostro blocco cucina i nostri due fornelli del gas e chiaramente il nostro frigo a pozzetto a compressore quindi un veicolo che ci permette di goderci al massimo le nostre uscite esploriamo casa busner busner copa parliamo sempre della stessa tipologia di prodotto di quella precedente però con un accessorio in più il bagno il bagno sì sicuramente si parla di un piccolo di poco più di 5 metri di lunghezza ovvero 5 metri e 30 con la possibilità di avere un bagno anche qui abbiamo quattro posti omologati sia a viaggiare che a dormire grazie al tetto a soffietto che ci permette appunto di creare una doppia ambientazione e passiamo invece in casa laica parliamo sempre di van decisamente più completo più accessoriato insomma è già una soluzione più confortevole questa 5 metri e 40 di pura compattezza e flessibilità su strada lo abbiamo in diverse versioni qui in pronta consegna da vr camper diverse colorazioni esterne con anche diverse tipologie di immobilio interno sempre quattro posti omologati a viaggiare meccanica fiat ducato ma ci sono anche delle alternative a livello di meccanica quindi venite a trovarci perché di soluzioni ce ne sono veramente veramente molte e se poco fa di parlavamo di alternative al van le abbiamo e parliamo di casa busner parliamo di meccanica ford trazione anteriore cerchio da 16 una campanatura decisamente più alta rispetto a un fiat ducato quindi per chi è particolarmente alto potremmo sicuramente avere anche qui la nostra soluzione ritorniamo in casa i mere il vostro brand storico quello che vi contraddistingue da sempre parliamo di un grande 4x4 forse il re dei 4x4 si lui lo si riconosce decisamente da lontano parliamo di un grand canyon 4x4 in versione crossover come potete vedere dall'esterno dalle grafiche particolari parliamo di trazione integrale 4x4 mercanica mercedes tetto a soffietto riscaldamento a gasolio batteria litio e chi più ne ha più ne metta quindi parliamo veramente di un vero e proprio car armato su quattro ruote passiamo in casa like ed è sempre bello comunque salire a bordo di questi veicoli per apprezzarne proprio il comfort e la qualità perché vi assicuro che le finiture sono davvero di pregio è vero si percepiscono fin dal momento in cui entri nel veicolo e ti rendi conto di che mondo ti si apre all'interno parliamo di un 7 metri e 40 di lunghezza totale con una piantina oggi molto richiesta ovvero i letti gemelli posteriori e poi chiaramente il famoso letto basculante che scende sopra il gruppo sedute dove esattamente siamo siamo noi quindi un camper che nasce per la coppia ma perché no anche per la terza e la quarta persona una coppia di amici o i nipotini che dobbiamo portarci in giro per le nostre ferie quindi venite a trovarci tantissime sono le soluzioni laica busner immer cross camp tutte in pronta consegna abbiamo modo di toccarle con mano e di spiegarvele da vicino sempre un 4x4 stessa cabina stessa meccanica però con una struttura forse un po particolare una vera propria cellula di casa immer parliamo sempre di meccanica mercedes 190 cavalli 4x4 di trazione permanente la cellula dietrostante appunto parliamo di immer due letti gemelli un ampissimo garage tipico del telaio mercedes e soluzione sicuramente eccezionale per la coppia che perché no la penisola scandinava e tra le prossime mete vi ricordo che da vr camper c'è un vasto parco di veicoli ricrazionali usati usati si fa per dire perché in realtà si parla di mezzi freschi freschissimi pari al nuovo dai prezzi veramente sorprendenti per esempio per esempio un b708 sl parliamo di un veicolo chiaramente in patente c data la lunghezza i pesi generali del veicolo e gli optional montati tanti sono i veicoli nel parco usato che abbiamo e vi parlo esattamente di un imerexis 474 veicolo anche lì decisamente compatto 6 metri 65 di lunghezza sempre letti gemelli posteriori e poi ancora nel nostro parco usato non solo prodotti di casa immer ma prodotti anche di casa laica motorhome e semi integrali con letti gemelli posteriori e letto matrimoniale posteriore quindi venite a vederli e a toccarli con mano e perché no a provarli nuovo usato noleggio la vostra casa quattro ruote proprio qui in via recamper in via volta 29 a druento ma mi piace sottolineare comunque anche il vostro fiore all'occhiello cioè l'assistenza il posto vendita assolutamente sì non è sicuramente da sottovalutare l'assistenza per i nostri veicoli è fondamentale sia per le vacanze estive che per le vacanze invernali quindi affrettatevi qualsiasi siano i vostri problemi o anche solo consigli o di informazioni siamo qui a disposizione per aiutarvi efficienti professionali competenti insomma sempre a vostra completa disposizione per aiutarvi ad affrontare il vostro viaggio in tutta libertà e sì perché il viaggio comunque non finisce mai in via recamper grazie fabio carnino grazie a voi per l'ascolto e ricordate via volta 29 naturalmente a druento